Hover Air X1, al suo prezzo di listino di 469 euro, vale l'acquisto? No. Aspetta però, prima di chiudere questo video fammi spiegare i motivi della mia affermazione, perché questo Hover Air X1 è un drone davvero interessante e per certi versi anche innovativo, a patto di acquistarlo al giusto prezzo. Da dove? Beh, ovviamente dal mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, che trovo linkato qui sotto in descrizione ai video. E magari perché no, questo potrebbe essere proprio il drone che tu stai cercando. Ok, mi tolgo subito il dente ragazzi. Il problema principale di questo drone non è tanto la sua qualità e né tanto meno il prezzo, ma la campagna di marketing che è stata effettuata nel corso delle ultime settimane. Forse l'avrete già visto su YouTube e anche su altre piattaforme. Ci sono state tante recensioni di questo drone, a dir poco superficiali, che non approfondivano né i lati negativi né tantomeno quelli positivi. Vi conoscete. Dico le cose senza peli sulla lingua. Quindi cerchiamo di rimediare. Over Elix 1 di Zero Zero Robotics, un'azienda che forse ricorderete per il Vucopter, quel drone particolare con solo due eliche che recensì un po' di tempo fa, è un drone sulla carta molto interessante e innovativo, sotto certi aspetti, che vuole un po' reinventare, rivoluzionare quelli che sono i selfie drone, sempre relegati un po' ai margini del mercato perché considerati poco più che giocattoli. E questo, credetemi, un giocattolo non lo è affatto. E in che modo lo fa? Beh, risolvendo tutti quelli che sono i principali problemi di questa particolare categoria di droni. Come ad esempio la fotocamera, finalmente di buona qualità. Un sensore in grado di registrare video fino al 2.7K 30fps o Full HD 1080p 60fps stabilizzati su un singolo asse più ACE, con una buona resa finale, devo dire. Video davvero ottimi, devo dire, specialmente per la condivisione sui social e in condizioni di buona luce ambientale. E' anche possibile registrare video in verticale, ma in questo caso il sensore non ruoterà come ad esempio sui DJI Mini, ma si limiterà a croppare e ritagliare l'immagine. Gestisce bene anche i cambi di esposizione. Non vi sto chiaramente dicendo che questa è la fotocamera del DJI Mavic 3 Pro, ma si difende comunque bene per l'uso per cui è pensato. E ancora l'autonomia. I suoi motori brushless, sì, un po' rumorosi, lo state sentendo, mi hanno permesso di superare i 10 minuti di volo. Sembra poco, vero? Ma credetemi, non è così, ma ci arriviamo tra poco. Garantiscono inoltre un'ottima resistenza al vento lì dove altri classici selfie drone con motori a spazzole vanno un po' dove capita. E' facile da usare, pesa meno di 200 grammi e più piccolo di uno smartphone, ve lo mettete in tasca, lo tirate fuori e grazie al suo sacchetto evitate anche di graffiarlo. Una volta che ce l'avete in mano vi fate il vostro selfie volante in pochi secondi e con grande facilità. Ma attenzione a non abbassare la guardia, perché questo drone non è dotato di sensori anticollisione, e quindi se va a sbattere a terra dove si trova. Comunque il suo peso ridotto e le gabbie attorno alle eliche lo proteggono da buona parte dei possibili danni e incidenti. Dal proposito Zero Zero Robotics si fida a tal punto di questa gabbia, che come vedete può essere anche aperta facilmente, e il meccanismo ha uno scatto molto molto ben fatto. Dicevo, si fida talmente tanto di questo sistema che non ha nemmeno inserito delle eliche sostitutive nella confezione originale. E attenzione perché io ho la versione combo con non una ma due batterie più la basetta di ricarica. Ma il radiocomando, beh, non c'è. Perché questo drone funziona in modo totalmente autonomo, un po' come se avesse un'intelligenza artificiale a bordo. Ci sono due tastini, uno per selezionare la modalità di volo, i cui parametri come altezza, distanza, tempo di volo e altro ancora possono essere gestiti tramite pressione prolungata, in modo più preciso tramite l'applicazione dedicata, che tra l'altro è fatta anche davvero bene, e un altro tasto più grande per dargli il via. L'OVERAIR X1 ci riconoscerà subito, in due o tre secondi, mettendoci al centro dell'immagine, e farà quello che abbiamo detto di fare, in modo molto preciso e intelligente. Per poi tornare autonomamente da noi e atterrare sulla nostra mano, grazie ai sensori inferiori composti da una VPU e infrarossi. Bellissimo, vero? Assolutamente sì, ragazzi. Ma il GPS? Beh, non c'è. E questo è forse il suo più grande problema. Perché sì, è vero che questo drone è pensato per i selfie e non si allontana più di 10-15 metri da noi, specialmente in altezza per quanto riguarda la modalità di volo Beard Eye, però è anche vero che il GPS sarebbe stato molto molto gradito. Sia perché un modulo GPS ormai costa due spiccioli e questo drone costa una barca di soldi, oggettivamente, sia perché il modulo GPS ci mette a riparo da possibili incidenti. Mettiamo ad esempio che vogliamo pilotare questo drone, magari un circle mode con un raggio di 9 metri, partendo da una scogliera o da un punto elevato con uno strapiombo, Beh, se questo drone durante il suo girare trova un ostacolo, il tracciamento va, impazzisce, oppure si alza troppo a vento, beh, lui va in errore e atterra dove si trova. Appunto perché non ha il GPS e quindi non sa la posizione di partenza e non è in grado di effettuare un ritorno a casa automatico. Bene, se capita in mare o da un altopiano su uno strapiombo, potete salutarlo per sempre. Ma stavo dimenticando che tramite la sua applicazione possiamo sì pilotarlo manualmente, in modo un po' limitato, ma è anche vero che per farlo dobbiamo connettere il drone prima del volo, attivare il collegamento Bluetooth Wi-Fi, diciamo che non è poi così affidabile. Altro problema legato alla mancanza di GPS, questo drone non vola con poca luce. Di sera o poco dopo il tramonto, lasciatelo a casa, fate prima. Non decolla nemmeno a sotto dei faretti LED. Per quanto riguarda il volo in duro, invece, salcava sorprendentemente bene, sempre a patto che ci sia una buona illuminazione, o almeno sufficiente. A conti fatti, opinione personale, ci tengo a sottolinearlo, prima di attirare polemiche, che comunque ci saranno, lo so, questo Overhead X1 di 00 Robotics è un drone riuscito a metà. Un vorrei, ma non posso. È uno dei droni più intelligenti sul mercato per quanto riguarda le funzionalità di volo smart. Alla fine questo è un quickshot drone, possiamo definirlo così, ma è anche molto limitato sotto gli aspetti che vi ho detto durante questa recensione, che si sarebbero potuti davvero evitare. Io comunque continuo a trovarlo un drone affascinante, innovativo, originale, in un mercato così statico come quello che stiamo vivendo. E per questo motivo continuerò a portarmelo appresso, perché utilizzarlo è davvero semplice, facile, un po' per tutti, anche per chi non è pratico di droni. L'ho utilizzato anche per registrare alcune parti di questo reel che ho caricato sulla pagina Instagram, seguitemi se ancora non l'avete fatto. Devo dire che si è comportato decisamente bene. Insomma, questo selfie drone o quickshot drone, come l'ho appena ribattezzato, tra Circle Fly, Zoom Out, Volo Verticale, Follow Me, che dimenticavo, è probabilmente la sua funzionità di volo più avanzata. funziona benissimo, ci segue alla grande come state vedendo. è anche in grado di evitare degli ostacoli molto grandi, non so come faccia, forse tramite la fotocamera riesce a capire come aggirare magari un albero o un palo, lo fa davvero bene, e c'è da dire che con gli ultimi aggiornamenti è stata anche inserita la possibilità di farlo allontanare maggiormente durante il Follow Me o di dargli un'altezza di volo diversa. Quindi davvero è da rodare il supporto post lancio di questa azienda e credetemi, non è cosa da tutti. Vero, Abzan? E c'è anche la possibilità di volare con il drone e utilizzare la sua applicazione e il nostro smartphone come microfono. Come vedete, anzi come sentite, andrà anche a rimuovere il rumore delle eliche del drone. Davvero niente male. Quindi sì, per quanto riguarda l'autonomia, questo drone è pensato per voli molto brevi. Quindi 10 minuti di volo con dei motori brushless che resistono bene al vento sono più che adeguati, ci permettono di registrare tante clip. Alla fine questo non è un drone che lanciate a centinaia di metri di distanza per fare magari delle ispezioni, registrazioni professionali o range test, quindi la batteria che ha va più che bene. appesantirlo ulteriormente con una batteria più grande secondo me sarebbe stato inutile. E a tal proposito, per quanto riguarda la memoria, non dovrete inserire nessuna microSD. In quanto ci sono ben 32 GB di memoria interna e per scaricare foto e video vi basterà connettere il drone al vostro PC tramite la USB-C di cui è dotato. Oppure utilizzare l'applicazione. In conclusione vi consiglio pure no l'acquisto di questo Hover Air X1, beh, dipende dall'utilizzo che volete farne. Se cercate un drone per quickshot al volo, letteralmente, un drone totalmente autonomo e facilissimo da utilizzare, però prestate sempre attenzione, beh, in questo caso lui è perfetto. Se invece cercate un drone per un utilizzo a 360 gradi, guardate altrove. Inoltre, e questo è un consiglio personale, sincero, che va anche contro i miei interessi, posso dirvi subito di acquistarlo al suo prezzo pieno dai miei link, quindi guadagnare il più possibile, però non lo faccio. E vi consiglio, se vi interessa, di aspettare che il suo prezzo scenda un po'. Vi segnalerò subito le sue prime offerte, dove nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Tears, linkato qui sotto in descrizione di video. Entrateci per supportarmi, anche perché troverete, oltre all'offerta di questo prodotto, anche tantissime altre offerte dal mondo della tecnologia. Siete già in oltre 30.000 sul mio canale Telegram, ma anche solo tu, cosa aspetti? E detto ciò, ora aspetto la tua opinione. Cosa ne pensi di questo Overair X1? Lo trovi un drone interessante, innovativo, oppure pensi che sia solo un inutile spreco di soldi? Beh, fammelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. E se vuoi supportarmi, beh, puoi farlo molto semplicemente, oltre che entrando nel mio canale Telegram, anche lasciando un like, condividendo questo video ai tuoi amici, e iscrivendoti a questo canale, che conta già oltre 105.000 iscritti. Grazie a te, grazie a tutti. E questo è tutto ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che lo vogliate, sempre qui su Addictest to Tech. Alla prossima. Ciao amici miei. Ciao a tutti.